Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 per traffico, code a tratti tra Calenzano e B1 variante in direzione Bologna. Infipili rallentamenti per cantieri in direzione mare tra Ginestra e Montelupo, possibili disagi anche in carreggiata opposta. Segniamo inoltre la presenza di personale su strada tra Ponte della Ovest e Ponte della Est nella carreggiata verso Firenze. Siamo al traffico urbano di Firenze per la cantieristica da domani 13 maggio al via i lavori di ripristino dei giunti di dilatazione del cavalcavia dell'Africo. L'intervento sarà effettuato in fasi successive in orario 9-19 e il termine previsto dei lavori è il 16 maggio. Tutte le modifiche alla circolazione sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie! 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 Grazie!